John Hart Sei andato Andy? sembra di sì per sicurezza parlo a bassa voce così non mi può sentire ciao piacere io sono lo sceriffo John Woody sono qui per giocare a un gioco molto rilassante cos'è quella faccia? ah pensavi forse che fossi un vero sceriffo beh non è esattamente così in realtà io sono un giocattolo ebbene sì sono un giocattolo parlante perciò sono qui per giocare in modo rilassante con te allora sono così vero da non crederci? bene te lo dimostro subito allora aspetta che la trovo ecco qui vedi questa cordicella? ce l'ho qua dietro collegata prova a tirarla ed ascolta ho un serpente nello stivale vedi? ce l'ho davvero ti mostro solo un secondo ecco qui il mio stivale e guarda che serpente ho un serpente nello stivale ce l'ho aperto davvero te l'ho detto bene adesso tira la cordicella di nuovo hanno avvelenato il pozzo nooo visto? sono un giocattolo autentico a tutti gli effetti bene adesso facciamo un gioco insieme allora prendiamo gli ocorretti questo è il mio portapastelli personale il portapastelli di cianvuti ecco sceriffo cianvuti ti diamo il portapastelli ah già che spadato non mi servono i pastelli ma i cessetti ecco qua allora questo è il cessetto e questa è la mia amica l'inerama però versione lavagnetta allora il gioco è che io disegno e tu indovini bene iniziamo subito questo bellissimo gioco qui è allora di chi si tratta? chi è questo? benissimo esatto procediamo con questo gioco sintatico ok 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 Allora chi è questa? Questa cowgirl Esatto, è proprio lei Allora chi è questa? Allora chi è questa? Chi è questo? Questo tipo con questo grosso naso a patata Ti torna familiare per caso? Ho dimenticato un dettaglio Ecco le orecchie Sennò come faceva sentire Allora di chi si tratta? Osserva bene Sì esatto È proprio lui Allora di chi si tratta? Allora di chi è questo? E questo chi è? Questo simpatico dinosauro Allora di chi si tratta? Si è proprio lui Allora di chi si tratta? Grazie. E questo simpatico cagnolino, chi è e come si chiama? Pensaci bene, ce ne sono tanti di cani ma questo è particolare per il suo corpo che si può allungare come una molla. Sì, ottimo. Allora, ti è piaciuto questo gioco? Loro che hai visto disegnati sono i miei amici giocattoli. Ecco chi sono. Bene, adesso passiamo a quest'altro gioco. Vediamo cosa c'è qui. Tante belle forme geometriche. Esagono. Esagono. Cerchio. Quattro. Quattro. Rettangolo. Triangolo. Triangolo. Quattro. Grazie a tutti Questi sono tutti giocattoli di Envy e li ho presi nascosti appositamente per te Adesso possiamo, altrimenti se ne potrebbe accorgere Ti è piaciuto? Bene, però adesso, prima che torna Envy, che ritorna qui Facciamo l'ultimo gioco Iniziamo la partita Eccolo qui Facciamo cadere le palline La prima Due Tre Cinque Altre due in più Wow, qua Ops Abbiamo quasi finito Una sola Sì, abbiamo finito Finito Ci siamo riusciti E adesso risistemiamo tutto come prima L'ultimo gioco So La prima C'è C'è La nuova Questa 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' stato un piacere giocare con te e spero di averti divertito. A presto, ciao. E prima di andare ricorda questo, non abbandonare mai i tuoi vecchi ricordi che ti stanno più a cuore. E' sempre bello rimanere un pochino bambini dentro, almeno una piccola parte di noi. Ciao, ciao, ciao.